Festival Show, l'anteprima E' arrivato a trovarci sul nostro track, Roby Facchinetti, bentornato! Beh, bentrovati! E poi devo dire che quest'anno per voi è un anno veramente molto importante, cioè questo compleanno veramente straordinario, sono 30 anni della vostra radio, per cui, no? Eh sì, festeggiati come si deve e 10 anni che non tornavamo in questa cornice dell'Isola dell'Unione, qui a Chioggia, dove ti volevo chiedere, c'è una bella aria calda, siamo comunque proprio a fianco al mare, perché abbiamo barche tutto intorno, com'è la sensazione di cantare qui? Ma la sensazione è bellissima, perché l'aria è calda, è umida e alla voce e alle corde vocali fa veramente molto bene, per cui ci sono le condizioni perfette per fare un ottimo, ma non solo io, per tutti i cantanti che questa sera si alterneranno su questo palco. Quindi un'esibizione ancora più bella. Questa sera sul nostro palco porterai un pezzo della storia di Pooh. Beh sì, sono tre brani classici, appunto Il cielo è blu sopra le nuvole, che è il brano che abbiamo dedicato in modo particolare a tutti gli avviatori, ad esempio l'Alitalia, che ne so, le hostess, piuttosto che i piloti, cantavano continuamente e cantano continuamente questo brano. Il cielo è blu, appunto, Pier e chi fermerà la musica. E quindi insomma, grande storia della musica questa sera sul nostro palco. Sei stato recentemente coinvolto anche in un progetto televisivo con tuo figlio Francesco, che ci ha raccontato qualcosa di più del vostro rapporto e anche molto divertente. Vi divertite sempre così o era un po' di copione? Ma no, abbiamo fatto, questo ormai due anni fa, siamo andati in Lapponia e abbiamo fatto questo programma molto molto divertente, perché il titolo, solo che l'ho scoperto dopo questo titolo, Non te l'avevano detto all'inizio. 50 modi per uccidere tuo padre ed è successo di Deoni e poi con lui devo dire che ci si diverte veramente sempre. Poi la cosa bella è che abbiamo passato per la prima volta dieci giorni insieme. Solo voi due. 8 ore al giorno, si dormiva insieme, abbiamo fatto tutto, condiviso veramente tutto, anche le esperienze abbastanza dure. Tu considera che una renna mi ha dato una zoccolata in fronte. Mamma mia! Questa è che ho rischiato veramente tantissima. Questo, come giustamente diceva Franci, che le nostre vacanze, le cose che facciamo insieme, sono divertenti e non, no? Perché c'è di tutto e succede veramente di tutto. Sono avventurose, non vi annoiate mai? Molto, ma assolutamente, assolutamente. Allora noi non vediamo l'ora invece di vedere te sul palco questa sera qui al Festival Show Robby Facchinetti. Vediamoci stasera, ok? Ciao!